Il nuovo comandante Marco Flavio Aquila 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 contare tanto per voi. L'aquila non è un pezzo di ferro, l'aquila è Roma. Chi ha preso l'aquila? Lui lo sa, è uno di loro. La tua gente ha massacrato gli uomini di mio padre come cani! Suo padre era venuto per uccidere! Sei ancora il mio schiavo! Esca, che succede? Inziroggio, gente! Ora sei tu il mio schiavo, fa quello che ti dico e ti trai. Dobbiamo farlo ora. Arriva, arriva! Grazie! 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 Grazie!